La CGL parla di un contratto pirata. C'è stato uno sciopero da parte dei lavoratori di GSA. Guardia e fuochi impegnate nella sorveglianza antigennio, negli ospedali, le superfici, i porti, le stazioni, strade e autostrade. Sono 150 in Abruzzo che, dice la CGL, operano in una situazione insostenibile dal punto di vista di orari, turni straordinari e salari. La Filt CGL continuerà a essere a loro fianco in questa battaglia che rilancia anche quella su una legge sulla rappresentanza che permetta l'applicazione erga omnes dei contratti firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative così da mettere fine a queste situazioni di reale sfruttamento, scrivono Aurelio Di Eugenio, segretario generale Filt CGL Abruzzo e Molise ed Eugenio Di Fonzo, segretario generale Filt CGL Pescara e responsabile contratto Guardia e Fuochi. Chi ascoltiamo? La CGL è da circa tre anni al fianco di questi lavoratori in quella che possiamo considerare una reale battaglia di civiltà con le maestranze impegnate in turni di 12 ore a 6 euro l'ora senza nessuna maggiorazione per il lavoro notturno nonostante stiamo parlando di appalti milionari. E questo perché a loro viene applicato un contratto che noi definiamo pirata e stiamo chiedendo a gran voce l'applicazione del contratto Guardia e Fuochi di cui appunto noi siamo firmatari. La società si sta trincerando dal canto suo dietro un decreto ministeriale vecchio però di 15 anni che equiparava i due contratti, decreto che li equiparava solamente a livello economico, sicuramente non normativo. Il problema però è che in questi 15 anni, mentre il contratto Angaf è stato regolarmente rinnovato ad ogni scadenza, questo pirata è stato rinnovato una sola volta per di più per soli 36 euro rendendo la differenza attributiva tra i due contratti all'incirca di 350 euro attualmente. Quindi è chiaro che ormai sono distanti anni luce anche da questo punto di vista.